Un elefante di Sumatra, sottospecie di elefante asiatico estremamente minacciata, è stato trovato morto in una piantagione di palme d'olio. Secondo la polizia potrebbe essere stato deliberatamente avvelenato. L'elefantessa aveva 10 anni ed è stata trovata in un villaggio a nord di Ece ed è il terzo esemplare di elefante di Sumatra ad essere trovato morto nella stessa piantagione del 2015. Dentro l'animale abbiamo trovato dei frutti, una borsetta con tracce di polvere ha riferito il responsabile del centro di conservazione di Ece. Sospettiamo che la morte sia stata causata da un avvelenamento volontario perché il fegato e la milza si sono oscuriti, chiaro segno di avvelenamento, ha aggiunto. Un gruppo di veterinari è intervenuto sul posto. Abbiamo eseguito un'autopsia su questo elefante morto che è una femmina di circa 10 anni. Abbiamo recuperato alcuni organi tra cui il fegato, il sangue dentro il cuore e il liquido intestinale degli oggetti estranei. Tutto verrà portato in un laboratorio per essere esaminato. A Dace, secondo le stime del Ministero dell'Ambiente, rimarrebbero appena 500 esemplari di elefante di Sumatra la cui specie è fortemente minacciata sia per gli avvelenamenti compiuti dagli uomini che per la riduzione del loro habitat naturale in seguito alla deforestazione messa in atto per creare le piantagioni.